Ragazzi, quello che sto per mostrarvi è davvero per stomaci forti. E sì, questo è tutto il delirio di cavi che si trova dietro alla mia lunghissima scrivania, dove ci sono, come vedete, tre multiprese. Una della PC, quindi un vero PS per la parte informatica, una, questa qui, dedicata alla parte audio, e una in più per quello che è il router, le uscine LED e altre cose del genere. In mezzo uno sporco e soprattutto devo adesso prendere e smontare il monitor. Sarà durissima, ma ragazzi, ce la possiamo fare e secondo me ne varrà la pena. Eccomi qui ragazzi, il fuori da scatole penso più enorme che abbia mai fatto. Qui mi sono perso la testa, ma neanche quando apro i diffusori Io mi trovo di fronte a degli scatoloni così giganti. Soltanto che questo è un monitor, sì, da 34 pollici, ma curvo. E quindi le dimensioni cambiano. Ma iniziamo subito andando a tagliare la reggia. Comunque qui sopra delle indicazioni che spiega anche dov'è che bisogna andare ad aprire. Qui è spiegata tutta la procedura di unpacking e qui la parte in cui andare ad aprire. Quindi sono un po' emozionato, devo ammetterlo. Allora, dotazione, cavi. C'è un cavo da USB a USB di tipo C. Mettiamo via i cavi. Cavo d'alimentazione classico con l'asciuco tedesca. Dopodiché cavo displayport classico. Poi un altro cavo di tipo HDMI, classico anche questo. Uno sportellino di plastica. Le istruzioni. Un foglio di colore bello vivace che spiega come fare tutto. Cioè di controllare quali sono le parti da andare a muovere per fare tutto senza farsi danni. Infatti, dicendo così, non rovinare quello che ci dì. L'LCD, il pannello. Poi qui abbiamo una cinghia bella tosta da dove staccare appunto. Non sa se il microfono come avrà gestito questa botta. E qui abbiamo due parti che però io non utilizzerò. Ovvero questo è il breccetto che permette di tenerlo sollevato. Mentre qua c'è la base vera e propria. E anche qua c'è un altro di questi elementi da staccare. E qui sotto, signori, c'è lui. In tutta la sua enormità. Ma adesso non posso farvelo vedere perché devo con delicatezza iniziare a fare le prove. Perché io lo andrò a attaccare con gli attacchi Vesa. Ragazzi, vi risparmio tutto l'incubo del montaggio. E vi assicuro che è stato un incubo. Non tanto per il peso, che è in realtà meno di 8 kg. Quanto il fatto di conciliarlo con gli ingombri di quelle che sono tutte le elettroniche, amplificatori per diffusori, per cuffie e via dicendo, che sono sulla mia scrivania. Una faticaccia enorme, ma almeno è servito per pulire dalla polvere e anche sistemare il quadro che mi ha regalato Gianni Maffei. C'è a dire poi che per gestirlo nel mio lavoro, quindi montaggio video, soprattutto fotoritocco, ho avuto un po' di problemi con la fortissima luminosità che è dichiarata di ben 500 candele al metro quadro. Utilizzando il mio datacolor SpiderX, vi rimando il video qui sopra e volendo ottenere un 90 candele per metro quadro, che secondo me è la luminosità ideale per me che lavoro nella vera e propria penombra, ho dovuto ottenere la luminosità a 10 e il contrasto a 25. Comunque una volta calibrato, ho dovuto vedere che il sRGB al 120% dichiarato è effettivamente rivelato vero. Guardate questo grafico, a fine calibrazione, il triangolino rosso indica la resa del monitor, invece il verde sarebbe l'SRGB e vedete che effettivamente è più ampio. Come anche non è facile abituarsi subito a un monitor così tanto ampio, cioè realmente ti fa l'effetto partita da tennis, ti viene da muovere la testa a destra e a sinistra per riuscire a seguire quello che stai facendo. Ma poi una volta che cominci a capire come sfruttare questo monitor da 34 pollici wide, incomincia davvero a divertirti. Innanzitutto quando ho capito che su Windows 10, premendo il tasto Windows e le frecce direzionali si può effettivamente dividere lo schermo in due pezzi, che noi abbiamo effettivamente in 21.9, un 3440x1440, ma che corrisponde ad avere due monitor 4 terzi da 1720x1440 pixel affiancati, il che è fantastico per un vero e proprio multitasking. Oppure, per me che lavoro nel montaggio video, per avere una timeline davvero infinita, nello schermo riesci ad avere tantissimo spazio su cui gestire quello che è il montaggio. Ovviamente quando guardi i video in 16.9, come sono appunto i miei video, ci sono delle fasce nere un po' fastidiosi a destra e a sinistra, ma già se passiamo a chi fa i contenuti in 18.9, come il mitico Manuel Agostini, queste bande nere si riducono. Mentre se andiamo a vedere dei contenuti davvero wide, come il formato del cinema, che è in 2.35 a 1, allora sì, davvero ti senti inserito all'interno di quello che stai vedendo. Guardarci Netflix, una vera goduria. Infine, in cui c'è a parlare del discorso gaming. Sì, se mi seguite su Instagram, mi raccomando Fatal, mi trovate come gianluca.bocci, sapete che mi sono regalato questa Xbox Series X per creare nel mio studio una postazione che sia sia del lavoro, sia di intrattenimento. E di dire innanzitutto che ho avuto una brutta sorpresa, perché effettivamente le console lavorano nativamente soltanto in 16.9. Quindi se noi lo guardiamo qui è tutto stiracchiato. Però, al di là del fatto che è stiracchiato, il resto le prestazioni sono ottime. C'è da dirlo, questo è un pannello di tipo LCD VA. Tante siglette, ma pensate che solamente l'ideale per chi fa foto ritocco è l'IPS, che ha un migliore angolo di visione, ma è molto lento, tempi risposta lenti. Per il gaming, probabilmente, i migliori sono invece i TN, che hanno un peggiore angolo di risposta, ma sono molto veloci. Questo VA è una via di mezzo. Infatti, a una risposta di 4 millisecondi, abbiamo i 100 Hz e l'HDR 400. Quindi, se non fosse per il fatto di dover stiracchiare per riempire tutto, sarebbe fantastico. Per la mia esperienza, comunque, anche stiracchiato, tipo giocando a Jedi Fallen Order, ti senti davvero inserito all'interno dell'azione. Quindi, digerisco lo stiracchiato, ma il fatto che sia curvo, davvero, è un impatto visivo fantastico. Ha poi funzioni ottime anche dal punto di vista audio, perché comunque, ricordiamoci, una delle cose che ho scoperto, quindi due cose ho scoperto tristi delle console di nuova generazione. Prima, supporto solo a 16 noni. Secondo, non c'è un'uscita ottica digitale. C'è soltanto l'HDMI. E questo monitor, comunque, permette di estrarre l'audio dall'HDMI, sia con i diffusori interrati, onestamente un po' scarsini, ma con una buona uscita cuffica e poi portato su tutto quello che è il mio impianto audio. Volendo, alcune cose molto utili. Avete presente quando giocate e vi bloccate e volete andare a vedere una soluzione? Allora possiamo avere il picture by picture, quindi due immagini affiancate, e quindi da una parte la soluzione su YouTube e sull'altra parte noi stiamo giocando, seguendo la soluzione. O ancora più utile in ambito lavorativo, stiamo aspettando il rendering del nostro ultimo video da mettere su YouTube e lo teniamo piccolo, quindi picture in picture, ma nella schermata grande continuiamo a giocare. Non mancano anche funzioni bellissime con una funzionalità dock via USB-C. Se abbiamo un portatile che supporta questa funzione, lo colleghiamo via USB-C e avremo quindi non soltanto l'uscita video, ma anche la gestione di mouse e tastiera. Non solo, avendoci anche l'uscita LAN, comunque gli ingressi disponibili, quindi HDMI e la DisplayPort, possiamo utilizzarle per avere quindi due computer e con entrambi quindi gestire mouse, tastiera, giustamente video e anche quella che è la rete LAN. In tutte queste cose forse l'unico fastidio è la gestione dei menu, più che altro che sono strutturate in maniera molto scomoda e i tasti sotto, se non leggi le scritte, non li trovi. Sarebbe stato meglio un joystick? Oppure come ho fatto nel mio caso, ho con il tempo memorizzato la posizione dei singoli tasti, anche perché le voci nel menu in realtà sono davvero molte, abbiamo anche il nodo più basso, il sensore luminosità e anche il sensore di presenza che prende e spegne letteralmente lo schermo quando ci allontaniamo con ottimo risparmio di energia. Non dimentichiamo che tra tutte le cose abbiamo anche la webcam interrata full HD. Insomma, tante le caratteristiche, infatti mi sono aiutato con un fogliettino, ma adesso è arrivato il momento, delle pacelline. Quindi cos'è che mi è piaciuto di questo Philips Brilliance 346p? La prima cosa è ovvio, è il fatto che sia un 34 pollici wide curvo e il fatto che lo schermo curvo ti permette proprio di entrare nella scena, che sia un film, che sia un videogioco, che sia la timeline del mio programma di montaggio video. E questo è che in fondo va alla secondaria come funzionano i nostri occhi. Non riusciamo a mettere a fuoco in realtà una certa distanza, quindi avere a distanza una superficie piatta molto ampia è difficile. Se è curva è come se rimanesse equidistante, quindi riusciamo a vedere bene questo schermo così ampio e entrarci dentro. Come ho messo nel titolo, davvero è benvenuti al cinema, perché guardando contenuti con proporzioni, con un aspetto razio di 2.35 o 1, è davvero fantastico. Seconda cosa, la resa. Appena arrivato non nascondo il ragazzo, ho detto oddio, mi sto lampadando. C'è la luminosità, specialmente in automatico, che è eccessiva, ma poi, sapete, io lavoro con la mia sonda di calibrazione, ho fatto vari esperimenti, alla fine ho raggiunto la giusta luminosità e il giusto contrasto per come sono abituato a lavorare e a giocare e a guardare film, ovvero nel buio, quasi completo, giusto quel pizzico di blu delle lucine LED dietro la mia scrivania. Mi sono anche piaciute le enormi, inaspettate possibilità di questo monitor. C'è la webcam, c'è la possibilità di alimentare un portatile USB-C, di utilizzarlo come tastiera, come sistema KVM, picture in picture, picture by picture, spegnimento automatico, luce blu, insomma, è quasi troppa, troppa roba. Tutto questo, vi ricordo come sempre, il link qui sotto in descrizione, ha un prezzo che, ragazzi, non è regalato. Ad oggi sono 609 euro, però per tutto quello che offre, per essere comunque un 34 pollici, insomma, secondo me, è un prezzo adeguato. Invece, cos'è che non mi è piaciuto? Innanzitutto, il menu, strutturato in maniera decisamente scomoda, anche perché sono scomodi i tasti sotto. Metterci un joystick, come ho detto prima, o come anche un telecomando, che visto che fanno alcune ditte alla concorrenza, lo renderebbe più pratico. Perché mai sto facendo un videogioco, un attimo la resa, magari voglio un po' più di luminosità, andare lì sotto a cercare il tastino giusto, trovare la voce, è davvero scomoda. Ultima cosa, a proposito dei videogiochi, ma la cosa che ho notato è una mia mancanza, ma voglio ricordarla a voi, perché amare qualcuno evita la mia stessa sgradita sorpresa. Questo fatto che i videogiochi, meglio, le console dei videogiochi, utilizzano soltanto il formato 16 noni, e quindi non altri formati, è una cosa da sapere. E mi ha dato fastidio che né sul sito della Microsoft, né sul sito della Philips, quindi sulle rispettive pagini prodotti, viene specificata questa cosa. Degli appassionati di gaming mi hanno detto, ma dai, la sanno tutti. No, non è vero. Purtroppo, in tanti aspetti, si scoprono le cose soltanto quando inizi a utilizzarle. Fincando non utilizzi, ti leggi la scala tecnica, e non avendolo visto, rischi di rimanere un po' deluso. Io ci gioco tranquillamente, felicissimo, in 21 noni, e infatti concludendo vi dico, ditevi un po' voi, utilizzate dei monitor wide 21 noni? Come vi ci trovate per il lavoro e per il divertimento? Ditemelo qui sotto ai commenti. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video!